Nei prossimi dieci anni vedremo delle trasformazioni ancora più decisive, quindi la maggior parte dei beni di consumo saranno acquistati online, cosa che adesso già accade, ma molto probabilmente anche beni più complessi come le automobili, i mobili per la casa, i farmaci saranno acquistati online e questo comporterà un ridisegno totale delle strategie di vendita. Prodotto Vincenzo perché? Perché ci siamo resi conto che con un progetto di un mese e mezzo, un paio di mesi, abbiamo già risposto a cui abbiamo riacchiuso in quattro domande, ma in realtà erano quattro topic principali che i nostri agenti si trovavano a dover combattere ogni giorno direttamente sul campo. Non devo fare altro che utilizzare degli elementi grafici, in altre parole se io voglio vedere il dettaglio della mia performance in Lombardia, seleziono la Lombardia e quello che succede è che tutta la mia dashboard si aggiorna, quindi qui sotto troverete l'elenco dei clienti della Lombardia, troverete le performance per brand all'interno solo dell'area Lombardia e i dati sono riferiti solo a Lombardia. Grazie a tutti!